oggi vediamo il problema dell'inquinamento atmosferico e proviamo a spiegare per quale motivo possa essere messo in correlazione in qualche modo con il cambiamento climatico in corso innanzitutto iniziamo col dire che il problema dell'inquinamento atmosferico non è certamente un problema solo italiano dal momento che spesso abbiamo anche letto sui mass media degli enormi inquinamenti che hanno colpito nazioni come la cina o l'india anche esportati verso altre nazioni tuttavia ci siamo anche resi conto che praticamente tutte le aree urbanizzate sono in qualche modo inquinate proprio per la presenza di noi esseri umani che per vivere consumiamo energia ci scaldiamo e ci muoviamo usando mezzi di trasporto e gran parte di questa energia da noi utilizzata si basa sui combustibili fossili bruciare combustibili fossili significa immettere in atmosfera tutta una serie di particelle tra cui co2 l'anidride carbonica ma anche altre che poi rimangono come aerosol e se sono piccoli possono pregiudicare la salute perché possono entrare nei polmoni direttamente oppure reagire chimicamente dare origine a sostanze pericolose la pianura padana come dicevamo è uno dei luoghi in europa in cui le condizioni di inquinamento specialmente durante la stagione invernale sono maggiori questo è dovuto più che altro alla configurazione geografica e orografica della pianura padana la pianura padana è un catino ed è contornato dalle montagne le alpi sul bordo settentrionale orientale e l'appennino su quello meridionale la pianura padana è aperta est verso l'adriatico ed è diciamo leggermente crescente andando da est verso ovest ma è completamente chiusa per cui l'aria al suo interno non può rimescolarsi se non grazie a flussi d'aria fredda da nord temperata da ovest o calda da sud questo è il motivo per cui praticamente tutti gli inverni si vede che ci sono un sacco di città proprio collocate in pianura padana in cui vengono superati i limiti previsti per le maggiori sostanze inquinanti e in alcuni casi per esempio nel 2018 ci sono stati tutta una serie di città che hanno superato i 100 giorni di supero cioè per oltre 100 giorni sono stati superati i valori medi giornalieri di inquinamento perché si formano queste condizioni di grande inquinamento soprattutto nelle stagioni più fredde come dicevamo il motivo è prettamente meteorologico queste condizioni sono favorite da alta pressione e l'alta pressione è una delle caratteristiche dei nostri inverni mediterranei in cui le condizioni meteorologiche sono praticamente favorite dalla presenza di situazioni anticicloniche l'anticiclone dell'azore tende allungarsi verso l'europa e oppure addirittura con protuberanze dall'africa e queste questi promontori anticiclonici praticamente tendono a favorire stabilità dell'aria soprattutto nei bassi strati più nel dettaglio quello che si viene a formare è una zona di inversione termica chiamate in questo modo perché la temperatura invece di diminuire con l'altezza cresce queste zone di inversione termica vicino al suolo o un po' più in alto rispetto al suolo agiscono da coperchio praticamente impediscono il ricambio dell'aria tra sotto l'inversione e sopra l'inversione perché uno strato di temperatura che aumenta con la quota impedisce gli scambi verticali perché quando la temperatura aumenta con la quota significa che l'aria fredda sta in basso e l'aria calda in alto e siccome l'aria fredda è più densa e pesante dell'aria calda questa è una situazione di stabilità assoluta e quindi vengono impediti i movimenti lungo la verticale questo strato di inversione in realtà caratterizza le situazioni anticicloniche anche d'estate però c'è un'importante differenza d'inverno la radiazione solare è molto inferiore rispetto all'estate perché il sole nel suo moto apparente rimane molto basso sull'orizzonte quindi ci manda un quantitativo di radiazione molto piccolo e questa radiazione non riesce a scaldare efficacemente il terreno e quindi non riscalda neanche la parte bassa dell'atmosfera questo significa che lo strato in cui si accumulano gli inquinanti tende a essere molto sottile poche centinaia di metri e quindi gli inquinanti accumulandosi assumono maggiore densità quindi ho maggiore inquinamento d'estate una situazione anticiclonica tipica lo strato cosiddetto rimescolato riscaldato dal terreno può estendersi verticalmente anche per 2-3 km di quota e quindi il rimescolamento avviene su uno strato più grande poi d'estate la radiazione solare è così forte che durante il giorno l'inversione termica viene distrutta anche se si forma di nuovo la notte successiva invece d'inverno la radiazione solare è debole e non riesce a distruggere l'inversione termica che spesso persiste anche durante la giornata in questo modo i bassi strati dove si accumulano gli inquinanti emessi dalle attività antropiche continuano ad arricchirsi di inquinamento e data la particolare configurazione della pianura padana in assenza di correnti che lo spazzano via questo inquinamento tende ad aumentare giorno dopo giorno in situazioni di questo tipo ripeto l'inquinamento tende ad accumularsi le situazioni anticicloniche hanno sempre caratterizzato i nostri inverni tuttavia il legame con i cambiamenti climatici è che recentemente si è osservato che queste situazioni anticicloniche tendono a essere più frequenti e più intense cioè l'anticiclone tende ad essere più robusto e a stazionare più giorni quindi l'effetto di coperchio di questa inversione termica è maggiore perché l'inversione termica si robustisce in quanto l'anticiclone è più forte e poi tende a crescere anche nel tempo perché l'anticiclone permane per più giornate quindi queste condizioni favorevoli al ristagno degli inquinanti diventano anch'esse più frequenti e più lunghe e quindi questo è proprio il legame tra l'altro il cambiamento climatico non crea soltanto l'effetto dell'aumento generalizzato della temperatura ma ridistribuisce e modifica la distribuzione dei sistemi barici che governano le correnti atmosferiche per cui si spostano proprio i grossi centri di pressione quello che si è osservato in questi ultimi anni è che il bacino occidentale del Mediterraneo e l'Italia cominciano a essere spesso coinvolti da situazioni anticicloniche ricorrenti non significa che tutti gli inverni e per tutto l'inverno permangano condizioni anticicloniche favorevoli al ristagno degli inquinanti però abbiamo molti casi in cui questo avviene e a volte questi casi hanno durate molto lunghe anche superiori al mese pertanto in queste condizioni gli inquinanti tendono a accumularsi giorno dopo giorno e pertanto si verificano i superamenti come se ne esce da questa situazione? l'unica via d'uscita è sperare nell'arrivo di qualche fronte qualche perturbazione a cui si sono associate delle correnti che tendono a spazzare via l'aria della pianura padana naturalmente questo significa spostare l'inquinamento da altre parti ma significa anche rimescolarlo perché queste correnti tendono a favorire il rimescolamento dei bassi strati atmosferici con quelli più alti e quindi ridistribuiscono questi inquinanti in tutta la troposfera cioè in tutti i 10-15 km di atmosfera dove avvengono i processi meteorologici quindi abbiamo visto che il bacino del Mediterraneo è più soggetto a questi anticicloni ricordiamo che il bacino del Mediterraneo geograficamente è collocato in una zona di transizione tra due zone climatiche quella temperata delle medie latitudini che coinvolge praticamente l'Europa sud-occidentale e quella subtropicale che invece è tipica del Nord Africa le caratteristiche climatiche delle due zone sono evidentemente molto differenti la zona subtropicale è più soggetta a condizioni anticicloniche ma il cambiamento climatico tende a spostare la zona subtropicale un po' più verso Nord e quindi tende a farla muovere verso il bacino del Mediterraneo coinvolgendo anche il nostro paese e il risultato è appunto l'intensificazione di queste condizioni di alta pressione che tra l'altro favoriscono il ristagno degli inquinanti con problemi anche gravi per la salute nostra e di tutti gli ecosistemi ma ovviamente ha come effetto secondario anche quello di impedire le precipitazioni perché in condizioni di alta pressione non piove e non nevica nel Nord Italia abbiamo avuto un autunno particolarmente piovoso con precipitazioni piovose e nevose molto forti e anche alcuni episodi alluvionali ma praticamente da fine ottobre metà novembre in certe zone non si sono poi più verificate precipitazioni per via delle condizioni anticicloniche che hanno persistito ormai in certe zone anche per oltre due mesi quindi abbiamo visto il motivo per cui si può affermare che il cambiamento climatico influenza anche la distribuzione dell'inquinamento la ricetta per evitare queste condizioni di forte inquinamento visto che ormai il cambiamento climatico è in corso è soltanto una bisogna limitare il più possibile le emissioni quindi bisogna evitare di mettere queste particelle derivanti dalla combustione dei combustibili fossili nell'atmosfera le condizioni anticicloniche ormai si sono intensificate e così ce le terremo la distribuzione geografica della pianura padana è quella e non possiamo farci niente quindi l'unica leva su cui possiamo agire è di ridurre l'emissione degli inquinanti per fare in modo che l'accumulo di queste sostanze sia minore e quindi non comporti problemi per la salute quindi vediamo che praticamente risolvere il problema dell'inquinamento e risolvere o meglio diminuire attenuare gli effetti dei cambiamenti climatici vedono un comune denominatore e cioè limitare l'utilizzo dei combustibili fossili grazie grazie grazie